Ragazzi oggi c'è da sedersi e da mettersi comodi perché parleremo assieme della Flex PX-E80 e c'è davvero tanto da dire Ciao ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video Finalmente dopo più di un anno di utilizzo e di esperienza vi posso parlare di quello che è stato il mio rapporto con la Flex PX-E80 una potente lucidatrice a batteria in versione mini molto versatile Prima però di iniziare con il video come sempre vi voglio invitare a lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportare questo genere di contenuti e soprattutto vi voglio invitare appunto a lasciare un like se vi piacciono queste recensioni se ne volete magari vedere di più in futuro sul canale Un ultimo ringraziamento poi prima di iniziare a Flex Italia per avermi permesso questo video e per aver collaborato sia per specifiche tecniche che insomma per tutta una serie di cose che scoprirete poi nel video La Flex PX-E80 nasce tendenzialmente per un motivo farci dimenticare che lei è una lucidatrice senza cavo infatti vuole essere potente ma allo stesso tempo versatile ma con tutti i vantaggi di non avere un cavo ovvio in questi casi qualche rinuncia comunque sul fattore potenza un pochino va fatta ma qui si riesce ad arrivare a un ottimo compromesso di ingombro macchina, leggerezza, rumorosità, autonomia e in generale potenza quindi insomma è il lavoro che è stato fatto dietro che a me è piaciuto molto e che me l'ha fatta apprezzare soprattutto durante l'uso qua dietro di me vedete il kit completo e ora vi faccio vedere tutte le cose un pochino più nel dettaglio a partire dalla PX-E80 che come vedete è una macchina molto molto compatta qui vedete tra l'altro già attaccata la batteria in confezione sono contenute due batterie ma di queste poi parliamo in modo un pochino più approfondito successivamente troviamo inoltre il caricatore rapido che consente la ricarica della batteria da zero in circa 40-50 minuti quindi consente un utilizzo continuativo senza alcun tipo di problema poi troviamo tre platorelli, due da 30 e uno da 75 mm dove uno di quelli da 30 può ospitare le carte abrasive quelle con la colla mentre gli altri due sono i classici a velcro per quanto riguarda invece gli inserti sono tre infatti questa lucidatrice può funzionare in tre modi differenti ovvero rotativa, roto orbitale con orbita da 3 mm e roto orbitale con orbita da 12 mm voi direte come si fa a passare da una modalità di funzionamento all'altra? vi faccio vedere subito il sistema brevettato è davvero rapido non richiede chiave né alcun tipo di utensile quindi insomma cambio di funzionamento da una modalità all'altra rapidissimo e insomma ergonomia e comodità completa questa è la configurazione roto orbitale con orbita da 12 mm e platorello da 75 mm si inserisce davvero in un secondo come vedete mentre questo è l'inserto rotativo col platorello più piccolo cambio utensile fatto praticamente è questione di un paio di secondi per quanto sempre riguarda invece la confizione tanto per finire il discorso oltre questi accessori è contenuta tutta la monolistica e niente di più ma parliamo invece della caratterizzazione principale di questa macchina ovvero della sua alimentazione unica ed esclusiva a batteria infatti non può funzionare in presa diretta alla corrente perché non è presente all'interno della confezione alcun tipo di collegamento non è presente nemmeno come optional non è proprio stata studiata difetto pregio? sicuramente per me non è un difetto visto che comunque già in questa modalità di funzionamento unica funziona in modo ineccepibile le batterie sono da 10.8 volt e sono disponibili in tre tagli di amperaggi differenti qui quelle di serie, quelle nel kit sono da 2,5 ampere voi direte ha senso prendere le altre batterie? no perché già due bastano e avanzano per un utilizzo continuativo visto che comunque il caricatore contenuto in confezione è rapido in 45 minuti circa completa una ricarica da batteria completamente scarica quindi ecco per me questa caratterizzazione che gli è stata data è coerente soprattutto con il tipo di macchina che è con la qualità con cui è costruito soprattutto con la possibilità anche di ricarica rapida e quindi di utilizzo continuativo del prodotto durante tutta la lavorazione ah cosa secondo me fondamentale le batterie quando si scaricano e se la macchina si sta per spengere non calano mai di performance praticamente la macchina è o on o è off perché scarica quindi ecco avrete sempre lo stesso feedback la velocità sarà sempre quella indicata non è che la batteria appena si sta esaurendo incomincia a calare di performance gli ultimi minuti ok non so se mi sono spiegato bene questa secondo me è una cosa fondamentale che mi ha fatto piacere davvero tanto questa macchina perché non mi sarei mai aspettato una cosa del genere quindi super approvata sotto questo punto di vista parlando invece della parte esterna del corpo macchina e dell'ergonomia generale vi posso dire che è costruita davvero bene la parte esterna è fatta tutta in materiale plastico molto molto morbido si impugna molto bene e anche in un utilizzo continuativo comunque riesce sempre ad essere ergonomicamente piacevole il peso non è affatto esagerato e anzi in questa configurazione con la batteria da 2,5 ampere è davvero molto bilanciata quando poi si ha il tampone montato in avanti quindi secondo me da utilizzare è un piacere e anche lo sfiato dell'aria calda è posto nella parte sottostante proprio qua vedete ci sono delle piccole bocchette di ventilazione quindi molto molto buono non vi arriva in faccia non vi arriva addosso è sempre una cosa che va a migliorare la lavorazione e comunque si vede che la macchina è solida visto che comunque è praticamente un anno e mezzo che la sto utilizzando ed è sempre perfetta ed è come nuova la vedete proprio da questa immagine azionare la Pixie è molto semplice visto che parliamo di azionamento perché non farvi sentire un po' qual è la rumorosità di questa macchina come sentite pienamente accettabile davvero ragazzi poi in funzionamento rotativa non c'è alcun tipo di vibrazione la macchina è comodissima per quanto invece ovviamente riguarda il funzionamento roto-orbitale è normale che ci sia un po' più di movimento ma insomma roba completamente accettabilissima le velocità di funzionamento sono 4 2000, 3000, 4000 e 5800 giri al minuto visto che ci siamo perché non farvi anche un sound check della versione roto-orbitale anche qua comunque vibrazioni completamente nella norma ah tra l'altro secondo me cosa molto interessante praticamente se il trigger non viene premuto completamente no funziona ad una velocità che ci permette la stesura del polish quindi carino non la utilizzo sempre io spesso magari la stendo a due o tre e poi inizio a lavorare però c'è chi lo usa chi usa questa tecnica perché no finita la carrellata di caratteristiche vediamo per cosa l'ho utilizzata e come mi sono trovato ammetto che è stata la mia prima esperienza di lucidatrice a batteria e proprio per questo dubitavo soprattutto della capacità di poter lavorare fino a completa scarica della batteria con una potenza costante ma su questo mi sono assolutamente ricreduto perché lei ha funzionato in modo eccezionale on off fino alla scarica della batteria e quindi per me questo è una cosa importantissima per quanto riguarda la potenza sicuramente non è come avere una lucidatrice con platorello da 80 mm orbita da 12 mm collegata alla rete elettrica ma ragazzi qui il corpo è notevolmente più piccolo e avere tutta questa potenza in un così piccolo corpo è una cosa davvero degna di nota in fase di progetto bisogna fare no delle scelte se voglio una mini lucidatrice non posso pretendere che sia potente quanto una lucidatrice a grandezza normale o un pochino più grande il corpo è piccolo ok potrebbe essere ancora più piccolo va bene ma la potenza sarebbe ancora minore quindi secondo me in questo pacchetto abbiamo davvero un funzionamento ottimo per molte occasioni detto ciò per estrarre il massimo potenziale è necessario spremere sempre per bene la velocità quindi alla fine vi ritroverete a lavorare sempre a velocità 4 salvo ovviamente casi casi particolari lei però con questa velocità ci ripagherà con un ottimo taglio anche in roto orbitale ovviamente va utilizzata accoppiata con i giusti tamponi e i giusti polish non tutti la fanno funzionare in modo corretto io tra l'altro ho avuto in prova quelli flex con cui mi sono trovato molto molto bene sono di ottima qualità e funzionano in modo eccezionale applauso davvero perché non me lo sarei mai aspettato ah tra l'altro poi una piccola soddisfazione personale quanto è bello lavorare senza avere i fili tra le scatole ok che la lucidatrice è meno potente di una diciamo magari un pochino più grande con cavo ma ragazzi non è sempre possibile tra l'altro utilizzare lucidatrici con cavo perché spesso ci troviamo almeno io mi sono trovato in ambienti dove l'illuminazione non era disponibile quindi avere le luci da retailing a batteria che mi durassero un po' di tempo e avere anche lucidatrici a batteria così è stata una cosa indispensabile per completare il lavoro quindi non è sempre possibile utilizzare lucidatrici con cavo ovvio quando si può è meglio magari utilizzare la lucidatrice con cavo ma insomma avere la comodità di una lucidatrice piccola potente in un ottimo corpo ergonomico così come questa Pixie secondo me è davvero una libidine l'ho pure poi utilizzata per carteggiare i fari per fare dei piccoli ritocchi ho fatto una prova sulla mia Mazda e devo dire che velocizza non di poco alcune lavorazioni ti fa tenere un bel risultato una bella uniformità ah ovviamente ragazzi per carteggiare orbita da 3 mm per correggere diciamo se si vuole utilizzare la rota orbitale orbita da 12 mm platorello da 75 mentre ovviamente con il platorello più piccolo quindi da 30 mm si può utilizzare sia modalità di funzionamento rota orbitale orbita da 3 orbita da 12 o modalità rotativa ah ovviamente non ho utilizzato solo i tamponi flex ho utilizzato anche i Mafra i Labo Cosmetica e mi sono trovato bene ovviamente questo dipende molto dal trasparente insomma da tutte le varie combinazioni vernice risultato che si vuole insomma è tutta una combinazione molto complessa però mi sono trovato molto bene e lei c'è sempre c'è sempre stata tanto per chiudere il capitolo lavorazione avere poi il platorello da 30 mm permette di fare delle cose mai viste mai viste prima correggere degli interstizi insomma la lucidatrice ok ha magari un piccolo limite nell'ingombro perché effettivamente poteva essere anche più piccola ci sono lucidatrici più piccole ma lei in questo form factor molto compatto racchiude una notevole potenza e questo è quello che mi ha fatto innamorare di questa pixel siamo dunque giunti ragazzi alle considerazioni finali e alle conclusioni beh che a dire di questo accessorio ormai mi sono ripetuto tante volte mi sono letteralmente innamorato anzi spero più presto di provare magari altri lucidatrici così a batteria di flex fatemi sapere se vi potrebbe interessare un contenuto del genere sul canale io mi sono letteralmente innamorato della possibilità di utilizzare una lucidatrice senza il cavo che magari può essere contro le basi del detailing perché ci immaginiamo tutti con la lucidatrice e il cavo sulla spalla ma se c'è un qualcosa di nuovo che funziona che utilizza una nuova tecnologia e diciamo il pacchetto è affidabile perché non non provarlo ecco se io dovessi scegliere non terrei ovviamente solo la pix come unica lucidatrice mini perché lei ovviamente risulta in alcuni frangenti limitante perché è sempre comunque alla fine troppo ingombrante troppo ingombrante ovviamente per quegli spazi che sono troppo piccoli per lei in generale comunque è molto molto maneggevoli detto ciò quindi se nel caso in cui doveste scedere una mini lucidatrice sicuramente questa potrebbe essere la scelta corretta soprattutto se si cerca un qualcosa senza senza cavo soprattutto che abbia una potenza accettabile per correggere anche cose un pochino più importanti di quelli che siano magari piccoli spot per me è un prodotto davvero approvato poi ragazzi non sono un professionista però nell'esperienza che mi sono fatto provandola mi sono trovato molto bene e poche volte diciamo la dimensione è stata un fattore limitante detto ciò ragazzi io spero che il video di oggi vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like qui sotto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico seguitemi anche sui social instagram facebook per rimanere sempre aggiornati soprattutto con instagram visto che pubblico le stories insomma se avete qualche idea per i prossimi video fatemela sapere qua sotto nei commenti per qualsiasi domanda come sempre scrivetemi io vi lascio il link dei prodotti qua sotto in descrizione un po' tutte le caratteristiche qualche pagina qualche indicazione interessante e ovviamente vi lascio una nota qua sotto nel video se mi sono dimenticato qualcosa vi spero come sempre che vi sia piaciuto vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo sul canale con nuovi video ciao ciao